Non viudrai far faloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle torbando al riposo, narcisettua dolcino d'amor, delle belle torbando al riposo, narcisettua dolcino d'amor. Ciao ragazzi, benvenuti al canale. Ciao da Paolo, l'ufficiale assaggiatore di questo canale, e da Sara. Ciao! Ciao! Ok, vorrei mostrare un canale molto caldo, quinoa, chickpeas, avocado, salad. Questo è il primo video con una nuova playlist, vegan dish. Grazie a Roberta che dell'Italia ci ha dato questo spunto. Roberta, io vi go! Vai Sara con la ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti